Bella rega tutto rego qua in Martinsetticente che vi parla, abbiamo appena battuto Jax o Jax, l'ho battuto off camera perché io ovviamente sono troppo teso quando registro e non posso farvi vedere che lo batto, nella storia per chi se lo stia chiedendo nella storia non si possono fare le fatality mi ricordo una cosa che non sentite con la sua spada laser accendo un portale si va subito tutti indietro, adesso avanti il mio portale ragazzi voi state qui chiudete la porta chiudete la porta ok si ma non posso sento fermare fermarne quattro è relativamente impossibile oh però hanno no si hanno fermato i primi tre li hanno fermati manca il boss preparatevi perché tutti i capitoli di Mortal Kombat inizieranno si si tutte le missioni di Mortal Kombat eccola qui il Raid come le volete come volete inizieranno con un filmato e un combattimento la tua eredità ogni episodio ci sarà composto da e tu cosa offri? lo stesso che hai offerto millenni fa quando hai tradito gli altri dei anziani e hai attaccato la terra combattimento noi ti abbiamo fermato imprigionandoti nel regno occulto e lo faremo di nuovo se allontani l'ombra dalla luce l'ombra cresce l'unica vera eredità della vita è la morte Raiden i miei seguaci l'hanno accettato e ora vanno avanti non mi ricordo mai scombattono per me cavolo Raiden grazie grazie oh è ancora vivo eh è ancora vivo eh forse ora ci sarà un altro compattimento ci sei grazie ah 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 son morti tutti in due ne hanno sconfitti quattro ma non c'erano anche le altre tu non toccherai il jinsai gli altri rinforzi con le armi anche se non so e chiunque nel regno della terra capirà la verità della morte ah beh ah 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 Credo che questa sia la fine del primo capitolo. Quello è mio! Eh, vabbè, cos'è? Speriamo che ci siamo in un altro combattimento. Guarda la tua pen, non c'ho detto. Lei sarà la prima a unirsi a me. Sì, vabbè, ancora vinto. Cos'è fatta il ferro? Bravo, Johnny. Sì, però neanche Johnny è morto. Fortissimo, Johnny. Sono certo di cosa sia successo. Ma sono certo di questo. Non provare a farle del male. Raga, questa la dobbiamo vincere assolutamente. Vai, con la combo. Eh, non ci riesco. Uh, cavolo, che sei vitale. Ok, combo, combo, combo. Combo, combo. Io sono un idio. Oh, finalmente! Oh Mento, testa e pace Johnny Cage, il primo round abbiamo Possiamo vincere tranquillamente a due round Vai, combo, dai Spacca gli legami E però In questa Scala Sisi Vai Io ci ho tolto Cavolo, io avevo fatto il calcio Oh Oh mio vero Vai, vai con la bomba Questa non possiamo perderla Dai che sta vincendo Oh, e vinciamo Oh, mamma mia Ci voleva Sei davvero un dio anziano caduto Un altro combattimento Di nuovo Johnny Cage, la muretto Tacco, attenzione Bravo, Rai Non lo so ricordato Che grazie Goditi la nuova casa Nonno Lei come sta? Sonia Johnny L'abbiamo Sì Sì È nostro Restate qui Le proprietà della camera Cureranno velocemente Sonia Blade Ok Quan Chi e gli altri Sono andate Un'ondata di energia nella camera Ha sovraccaricato i miei sensi Possiamo occuparci di Quan Chi Più tardi, Quan Chi Oggi abbiamo una ricompensa maggiore L'amuleto di Shinnok È al suo interno Il vecchio faccia di pesce Dobbiamo portare l'amuleto agli dei anziani Non possono distruggerlo Nessuno può farlo Ci daranno dei consigli Shinnok non potrà mai fuggire Ok La guerra non è finita Quan Chi è riuscito a fuggire Perché sorridete? Mi ha chiamato Johnny Raiden ha detto che discendo da una specie di culto guerriero del Mediterraneo Allevato come guerriero per gli dèi Non sono più riuscito a evocare quell'aura verde L'avevo attivata quando ho visto morire qualcuno che amavo E invece tu Cassie Puoi evocare una cosa del genere O è saltata una generazione Falla finita, Jin Non c'è servita l'aura in Darfur O in Iran O in Kurdistan Sbaglio, Jackie? No, non sbagli I monaci ti ci hanno mai mandato, Jin Ne abbiamo vista di azione Sia io che Takeda Roba che voi delle forze speciali non avete Riposo Siete tutti qui perché ve lo meritate Ognuno di voi è unico e perfetto Ora, come di sicuro non sapete Dato che non vedo bigliettini d'auguri Oggi la nostra squadra festeggia ben sei settimane Il segretario Blake è contento dei nostri progressi Anche se gli sputi in testa è contento dei nostri progressi È grazie a lui che il signor Cage ha formato questa squadra Per fortuna lo Shirai Ryu ha scelto me Posti nuovi Nuove facce Come il segretario ha evidenziato Un giorno noi vecchi eleve dovremo andare in pensione Quindi è il momento che la vostra generazione si faccia avanti Shaolin, Shirai Ryu, FS Tutti insieme Per la prima missione della squadra Dovrete recarvi al Tempio Lin Kuei Da un po' non abbiamo notizie del Gran Maestro Accertatevi che sia ancora dalla nostra parte Che ci copra le spalle se le cose si mettono male col Regno Esterno Dovete portarlo con voi Ma non siate sorpresi se Sub-Zero non avrà voglia di collaborare Ti preoccupa il Regno Esterno? Kotal Kahn non rispettava gli accordi di Reiko Li rispetta Ma sta affrontando una guerra civile Se i ribelli vincono Gli accordi verranno dimenticati Raga io direi che però Capitolo 2 Raga io direi che per oggi è tutto Spolliciate, commentate, iscrivetevi Bella